ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie principale di pokémon in questo episodio potremmo fare robe super simile 64 e si sono qua e ho incontrato un maledettissimo caterpie che devo catturare io voglio solo dire che sono brava a salvare infatti non sono assolutamente tornato al episodio scorso e quindi adesso noi andiamo a sconfiggere questi allenatori no l'ho ucciso niente cattura bacche domenica bravo a salvare comunque la seconda volta che è successa in tutta sta serie ma nello scorso episodio non ho fatto niente pace sempre colpa tua se questa serie non finisce perché succede qualcosa perché mi esplode computer contro di domenico ma sì perché ti ho consigliato di scaricarti ai livid si ai livid è il miglior programma per editare e montare i video scarico la tea www.seaftonic.it troverai anche tanti altri download molto sani sono a pratopoli troverete anche pokémon rubin omega per pc ragazzi quindi a 6 euro sono sono a pratopoli ok io sono da copoli ha ha bene andiamo a mettere un altro pokémon morto nel box mamma mia quanti pokémon mi sono morti siamo a 9 non so cosa devo fare però cerchiamo di tornare a pratopoli per già le medaglie tu tu quante medaglia ai 4 3 adesso controllo un attimo 4 dovrei averne 4 non se si apre troppo lì in quel quarto cioè dovresti prendere oddio è vero il signor 4 4 dovresti prendere la quinta medaglia contro mars e andando avanti poi è a patto l'americo no basta poco non parla che io sono un abbo ai pokémon non mi interessa niente che il gioco preferito di l'arzo pokémon parla fa schifo basta ok basta bene dov'è la palestra eccola basta con questo vecchino di pratopoli l'impetuoso maestro mascherato vediamo un po di bacche cosa di maschera la faccia vabbè non spero ah ok cosa vuoi che mascheri altre robe domanda del giorno cosa volete che mascheri il capopalestra di pratopoli se avete cose appropriate non volgari mi raccomando ma stupido il volo 30 prank con sexual i bim ma cos'è un buon fra vediamo si ho preso il dactyl che se lo prendevo prima potevo catturarlo invece adesso è solo metodo schiavo io bisogno di qualcuno che possa imparare volo io avrò tipo quattro schiavi il mio team è composto da due membri e quattro schiavi ciao gg e ti faccio dimenticare testo bene vediamo sposo giù usarlo no? io non lo so poi puoi già usarla e mezzo uno perfetto allora andiamo nella città dove c'è il prato nella città dove c'è il prato non stai per caso parlando di pratopoli no piove no vi prego no ok c'è la pratopoli che c'è che può essere di tipo acqua mamma mia vediamo un po di che livello sono no no salvo no salvo no non voglio fare una battaglia con te adesso ops guarda che non lo faccio apposto a scontrarmi con te ogni volta che ti vedo come va la vita male adesso che ci sei te salvo no battaglia con salvo per chi non lo sa salvo il mio rivale se non è ovvio e chi è salvo? no ma perchè? basta sono morto ciao sono morto no seriamente allora sono contro salvo che ha quattro pokemon il suo primo pokemon è uno shadinja al livello 34 e i suoi pokemon sono al livello? 30 al massimo ti prego 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 nooo come on ok almeno so con che mossa posso ucciderlo shadinja ok shadinja è andato però ha quattro pokemon lo panni no rimani ok fosse shadinja era quello a livello più alto nooo anch'io devo sconfiggerlo mamma mia ah 5 pokemon ah no 4 ok non riesco a colpire questo lo panni qui lava? no perchè a 3 espolo che odio ok io ho ammazzato due pokemon ciao piplup ho detto ciao piplup ah si non ho controllato le mosse del mio nuovo pokemon ma cosa mi fai baldeali piplup mi faccio buon latte mamma mia basta trespolo you mother fucker io sono un miltank di chiara basta basta se perdo adesso uccido salvo quello vero ah ok ok ho trovato una oh my god krendox ho ucciso siamo uccisi il rivale comunque ah oh no ok credo sa 5 ps cioè io ho trovato un percorso non mi ricordo se allora io ho cattolato un po' comunque lo chiamerò eh 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 facciamo lo chiamo lo chiamiamo flotta perchè non noi non 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 quindi flotta così il punto quindi ok ok secondo poco non è andato non mi ricordo se sto percorso l'ho già visto mi sa che si però 36 destino obbligato non si sa mai ma io in questo percorso non so se avevo fatto cattura che si muove c'è un percorso ah mamma mia c'era un percorso che non mi ricordavo di aver trovato un po' come allora trovo un bel weasel e lo catturo poi mi accorgo che c'è un bagon xx bagon xx che dimmi ammazzo perchè devo uccidere l'ultimo pokemon che ha livello è un altro shedinja perchè lì shedinja almeno so con che mossa posso colpirlo ma ma si un riva valore non è una città è un cioè è un lago si si è una roba ok ho battuto salve è un lago dove c'è uno dei altri smithpit e robo ok sono credo che questo sia un indizio per dirmi che non posso entrare nella palestra perchè sono troppo basso di livello ok cura sono sorpreso di non aver perso nessuno allora mamma mia le laslock sono brutte domenico 2015 vediamo il mio nuovo prima 15 nuovo pokemon ok genova plasol tipo elettro genova ehhh belle belle statistiche io sto a genova 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 è una cosa di final fantasy belle statistiche alto attacco attacco 70 no bambina io sono una grande allenatrice di pochetto moonstuck quindi non mi fai po di pochetto sottomissione l'acerboso acquonello e affanno seme meh vediamo se puoi imparare volo un plasol con volo vediamo robolla no no non la puoi imparare e questo arriva valore ok albero però magari puoi imparare onda calda yes a posto di sto andando avanti comunque dopo sei anni non ho capito sto andando avanti nel gioco dopo sei anni ok 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 comunque spero che mi si senta bene perché tipo mi trovo un po' lontano bene bene andiamo il condividi esperienza a il mio nuovo amichetto e andiamo a far salire un po' i pokemon di livello no c'era croco no che era tipo il best pokemon uno dei miei pokemon preferiti perché mamma mia d'ora in poi odio bagun già mi faceva schifo prima adesso di più ah in questo gioco c'è il fango interessante ok nuovo pokemon nuovo pokemon let's go ok sto ammazzando pokemon vediamo nuovo pokemon c'è i miei dratini interessante mi fa pensare a quella bella creepypasta che in realtà non esiste proprio ok lo ha lo ucciso non ucciderlo non ucciderlo c'è la campionessa non ucciderlo non ucciderlo non ucciderlo non ucciderlo continuo ad uscire tutti i pokemon che dovrei catturare oooook il guido allora adesso dunque adesso grazie mille campionessa della regione di simon e adesso andiamo per il momento di continuare per la vostra per la vostra per la nostra avventura fatti anche tu un po' di cultura moderna ma come con te un mamucari ecco un mamucari un mamucari ah ok allora scusate ok crendox scappa noi tipo con 56 pokemon nel pokédex perchè randomizzato ok magari tipo gente che guarda questo video scrivete dei suggerimenti per dei nomi per i miei pokemon nei commenti perchè sto finendo i bigliettini e quello non è un bene domenico come va ho trovato nuovo percorso giaccio ho fatto una roba allora dunque adesso ho un sacco di cose da fare quindi prima di tutto andiamo a curarci nella città dove si sta il flame ma non faccio ridere come quattro sono intrapolato nel fango cosa devo fare ah devi e per uscire devi semplicemente muoverti un po' certo è ok ho scoperto su in ob no sono il best giocatore dove ci trovo ecco qua il pokémon market pokémon market pokémon market allora non ci sono le ultramo quindi prendiamo giusto giusto 12 di questi un po' di superpozione sport ah comunque di nuovo la superpozione bella roba del save state sei ok ho preso ho fatto un po' di acquisti no muoviti ma tipo salvo non ci sta scrivendo niente bello bello è bello ah ma siamo 13 minuti tra due minuti abbiamo qui si bello che salvo non ci sta rompendo che strano che strano si bilotic oh prendilo al 19 e tu adesso ah quindi lo uccideresti tipo con qualsiasi mossa idropulsar non morire ti prego dai che ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego no ti prego ti prego ok vita al tiro se adesso però mi ammazza il Pikachu mi arrabbio ok ci togliamo entrambi poco ma tu quanti di andannatissimi pokemon hai due ma come fai non lo so con due io ne ho sei e me ne sono morti nove eh c'è perché sono un ottimo giocatore molto abile ah ok oddio 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 vita rossa vita rossa mamma mia no perché se lo prendo mamma mia non morirò più l'ho detto adesso muoio allora io adesso prima di tutto mi curo perché ho paura che mi ammazzo quindi perché sa no vabbè Simo mi puoi spiegare una cosa cosa perché ho preso i revitalizzanti non lo so perché eh ma perché quando muore un pokemon se non stai registrando lo puoi tenere in vita ah no aspetta non siamo col genere di ciao lo taglio questo si lo taglio cioè ci metto un bip sennò poi si arrabbia mi sono appena accorto che non posso tagliare gli alberelli perché non ho non ho inserito nessuno taglio ok quindi per festeggiare mentre domenico da un soprannome al suo nuovo pokemon fa l'outro ok quindi ragazzi io spero che per questo episodio della nostra let's play a pokemon versione perla platinum e anche diamante i compagni di frobi e super simon 64 è tutto noi ci vediamo con il prossimo episodio mi raccomando arriviamo a 50 miliardi di mi piace prossimo episodio vado bene anche 7 se volete spacchettamento di fifa 16 e al prossimo ciao no devo dare il soprannome eh il soprannome lo chiameremo lo chiameremo lo chiameremo è una serie femmina quindi l'andrò ma chiamare è femmina l'andrò ma chiamare eh non lo so più come chi mi viene in mente eh allora ok perfetto credo che tiffani vada bene benissimo bye bye ciao